Sono stati fermati due ladri che ormai avevano reso esausti i commercianti siracusani che da qualche tempo erano stati presi di mira da due giovani malviventi che utilizzando il metodo della spaccata facevano irruzione di notte negli esercizi commerciali prescelti e li derubavano dell'incasso contenuto nel registratore di casse e di ogni bene presente nei negozi. Le disperate vittime si erano rivolte al prefetto che aveva anche convocato un comitato per l'ordine della sicurezza pubblica per cercare di porre argine agli odiosi furti. Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica, erano già sulle tracce di due giovani. Il cerchio si è stretto intorno a un 26enne e un 21enne. Il 26enne è peraltro sottoposto a misura di sorveglianza speciale proprio per furto. Per loro si sono aperte le porte del carcere. 13 gli episodi di furto aggravato contestati. Per meglio comprendere la pericolosità sociale dei due, basti ricordare che nell'ultimo periodo la coppia di ladri aveva preso di mira e derubato bar, tabaccheria, benzinai, panifici, parrucchieri, negozi di alimentari causando danni alle strutture e cagionando dalla razzia di merci e denaro. I due si lanciavano a forte velocità con un motociclo a guisa di ariete contro le vetrate, spaccando appunto e introducendosi all'interno per operare i furti. Continueranno le indagini da parte della squadra mobile dei Carabinieri di Siracusa. Il sindaco Francesco Italia esprime soddisfazione per il fermo delle due persone accusate di essere gli autori dei 13 furti con spaccata e danni dei commercianti siracusani. Una bella notizia, afferma il sindaco della città, che dimostra la capacità delle istituzioni nel contrastare la criminalità, aiutando a riportare un po' di serenità e fiducia tra i commercianti. 13 episodi in pochi giorni avevano creato un giustificato allarme, ma l'operazione di Carabinieri e Polizia, dopo l'appello rivolto alla Prefettura, la conferma che lo Stato a Siracusa c'è ed è impegnato costantemente nel far rispettare la legge. Rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le forze dell'Ordine e della Magistratura, dice ancora Francesco Italia, per quanto fanno giornalmente e per il loro contributo, oppure in un momento così complicato, in favore della città e dei siracusani. È stato sorpreso mentre innaffiava le sue piante di marijuana, un denunciato, un uomo per coltivazione di sostanza stupefacente a Lentini. Nella mattinata di ieri, gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato, mentre svolgeva mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio, hanno denunciato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti un catanese di 37 anni. In specie, a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria, gli investigatori diretti dal dottor Monaco hanno rinvenuto in un fondo agricolo incontrato a Cuticchi, posto al confine tra il territorio di Lentini e quello di Ramacca, 26 piante di cannabis indica con inflorescenza. All'interno del fondo, gli agenti hanno sorpreso il denunciato che stava prestando ad irrigare l'insolita e illegale piantagione. Le piante rinvenute sono state sottoposte a sequestro. Precipitano i dati relativi ai positivi in Sicilia. Il report del 4 ottobre parla di 183 soli casi di positività. La regione siciliana non è più la prima regione per contagi in Italia, peraltro con la quota delle vaccinazioni che supera i 6.404.593 dosi. Oggi però si registrano 12 ricoveri covid in più con 6 decessi. La provincia di Siracusa però va male rispetto alla Sicilia. Infatti, e al resto delle altre province, Catania e Siracusa registrano 84 nuovi positivi rispetto alle ultime 24 ore. Venerdì scorso Silvana Cassi ha rassegnato le proprie dimissioni al sindaco Sebastiano Scorpo, che la ringrazia affettosamente per il lavoro svolto in questi mesi, e che rimane consigliere comunale di questa maggioranza, sempre al servizio della gente con le sue spiccate peculiarità nel campo del sociale. Ieri al comune di Solarino, a mezzogiorno, Federica Bruno è stata nominata assessore per completare la giunta. Ha giurato nelle mani del segretario comunale ben fatto e la presenza di altri assessori. Faceva già parte della squadra amministrativa come consulente. A lei i migliori auguri di buon lavoro da parte del sindaco Sebastiano Scorpo. Il Consiglio Comunale di Augusta dà il via alla consulta della famiglia, che si esprimerà sull'individuazione delle politiche familiari più opportune ed esprimerà parere, indicazioni, proposte, tesi al superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione. E il forum provinciale delle associazioni familiari esprime viva soddisfazione. È importante che il comune di Augusta, affermi il presidente provinciale Salvo Sorbello e la sua vice concetta Florio, riconosca la famiglia come soggetto sociale in quanto luogo di trasmissione di valori culturali, sociali e spirituali, favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, sostenere la maternità e la paternità consapevoli, promuovendo e rimuovendo le difficoltà economiche, promuovere sia l'attività di tutela dei minori orfani o privi di supporto, sia l'assistenza a persone con disabilità sono obiettivi essenziali in un momento in cui le famiglie si trovano a fare conti con pesante difficoltà dovuti alla crisi e alla pandemia.